Un altro delicato caso di violenza è stato risolto grazie alla denuncia presentata dalla vittima e all'operato dei carabinieri della stazione di Cervinara che hanno tratto in arresto un 39enne di Montesarchio ritenuto responsabile del reato di atti persecutori. La vittima dello stalker, una quarantenne della balle Caudina. La donna, disperata per il clima di paura in cui era costretta a vivere, ha chiesto aiuto ai carabinieri, raccontando le persecuzioni di cui era vittima, raccolti gli elementi tra i quali anche l'ultimo episodio quando l'uomo si è recato sotto la sua abitazione e l'ha minacciata ripetutamente. Nella serata di sabato dunque i carabinieri hanno deciso di scortare la donna che doveva rincasare riuscendo a bloccare l'uomo che con un grosso bastone stava attendendo la sua vittima sotto l'abitazione con evidente intendo di aggredirla. Disarmato e condotto in caserma, il 39enne di Montesarchio è stato tratto in arresto e su disposizione della procura di Avellino è trattenuto nelle camere di sicurezza in attesa di essere giudicato con la formula del rito direttissimo. Un altro delicato caso di violenza di genere che è stato risolto grazie alla pronta richiesta di aiuto rivolta tramite denunce ai carabinieri. Dunque l'invito per casi analoghi è quello di rivolgersi sempre alle forze dell'ordine. Grazie. 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 Grazie.